Dopo che vi abbiamo elencato i danni del cambiamento climatico, dopo che vi abbiamo fatto sentire in colpa per tutto quello che stiamo facendo per non salvare il pianeta, ora una domanda. Siamo ancora in tempo per salvare il pianeta dal cambiamento climatico? Ne parliamo dopo la sigla al caffè della domenica mattina. Ben trovati amici di Obiettivo 100, questo nuovo caffè della domenica mattina, riprendiamo il discorso ambientale, diciamo, iniziato con l'evento Chi paga i danni dei cambiamenti climatici. Prima di tutto ringraziamo anche lo sponsor che ci siamo dimenticati in prima battuta, Bar Colazione a Tiffany di Beppe, un applauso per Beppe. Sul canale trovate la conferenza integralmente pubblicata, ma oggi la commentiamo qua con Linda Cavicchi, presidentessa di Gipsoteca Vitali e Resistenza Terra, che è figlia della Gipsoteca Vitali, che ci hanno aiutato ad organizzare questo bellissimo incontro in cui siamo riusciti a mettere le amministrazioni dell'Alto Ferrarese insieme dopo il fallimento dell'Unione dei Comuni. Partiamo velocemente per cerchiamo di stringere i tempi, perché è la seconda registrazione che facciamo per errore mio. Ecco, devi farla questa premessa perché il pubblico non lo sa che abbiamo già registrato questa intervista, ma avevamo i microfoni spenti. La mia intervista è la più bella del mondo, ma nessuno la sentirà mai. Perché abbiamo tutte delle attrezzature nuove che non sappiamo ancora utilizzare correttamente, lo studio è ancora in lavorazione, quindi accontentatevi, insomma, cerchiamo di stringere i tempi. È una grande emozione, studio nuovo. Però è bello che questo succeda con la Linda invece che con altri, perché così facciamo soffrire lei invece che ha ospiti molto più importanti. Vi ringrazio molto per questo, anche perché voi siete sempre qua in mezzo alle scatole per tutto ciò che riguarda le notizie di Cento e in realtà siamo molto contenti di ospitarvi. E vi ringraziamo anche come Resistenza Terra per aver organizzato, ideato l'evento Chi paga i danni dei cambiamenti climatici, perché siamo riuscite, come dice George, a mettere al tavolo quattro amministratori dell'Alto Ferraresa a cui fare delle domande molto molto specifiche. E anche per noi, come Resistenza Terra, abbiamo dato in realtà il cappello introduttivo da parte di Alessandro Rossi di Anci, Emilia Romagna, referente del clima e ambiente dell'Emilia Romagna, perché noi, come sapete, noi siamo un gruppo ambientalista, ma non facciamo questo di lavoro, nel senso che abbiamo altre competenze, ma chiamiamo qualcuno perché dia proprio la sua visione, che è stata insomma, ringraziamo anche perché doveva andare al mare, invece è venuto a Cento. Lo ringraziamo, sulla nostra pagina Facebook trovate l'intervento di Rossi integralmente, abbiamo separato una cosa e l'altra in modo che ve la gustate in più parti. Nicola, mettiti a posto il cavo perché secondo me ti stai un po' per impiccare. No, non mi sto impiccando. Va bene. Allora, partiamo subito con la domanda. Siccome la puntata si chiama Siamo ancora in tempo, prima di tutto partiamo se le amministrazioni si sono preparate a questo problema. Come hai trovato le amministrazioni riguardo al tema del cambiamento climatico? Allora, le amministrazioni sicuramente non potevano fare diversamente, non potevano dire diversamente per due motivi. Il primo è che erano a fuochi incrociati, nel senso che era un appuntamento organizzato anche da un'associazione con scopi ambientali, quindi è difficile che potessero dire il contrario, ma soprattutto hanno ricevuto poco tempo fa, il 22 luglio, delle palline da tennis in testa, quindi insomma chiudere gli occhi di fronte a un evento atmosferico che ha portato dei danni economici del tenore di quello che avete potuto sentire nell'intervento che hanno fatto, 100 milioni di danni, unendo tutte le amministrazioni, le quattro amministrazioni presenti, quindi qualcosa di veramente grosso, vorrei dire epocale per la nostra zona, ma purtroppo andremo sempre più incontro a questo tipo di fenomeni atmosferici, quindi è sempre più difficile chiudere gli occhi di fronte a quello che sta accadendo. Una volta cadeva in terre lontane, lo vedevamo al Tg, se mai passava al Tg, adesso invece tocca a noi, ogni volta che c'è una nuvola più scura del solito, invece che dire dai che bello piove, ci preoccupiamo per le nostre case, per le nostre auto, per i nostri campi, per le nostre aziende. Sì, anche perché ci tengo a ricordarlo, nell'arco di un mese luglio c'è stata un'alluvione, la grandinata, trombe d'aria, trombe d'aria bondeno l'anno scorso, e infatti il succo dell'intervento di Rossi, che l'ha anche ribadito, è smettiamo di parlare di evento straordinario, questa è la nuova normalità. Aggiungo alle tue catastrofi anche le bolle di calore, perché sono le più frequenti, cioè sono quelle che colpiscono una fascia di popolazione più fragile, e che nelle nostre città in pianura, con queste condizioni climatiche, avvengono, e lo sappiamo, le sentiamo tutte, abbiamo vissuto le brevi. Cosa sono le bolle di calore? Sono, è l'asfalto, insomma, generalmente succede in quelle zone dove è stato o desertificato, quindi campi arati allo sfinimento, oppure nelle aree di cemento dove non c'è un filo d'erba o di alberi, insomma, quindi arrivano queste ondate, ma le avete immagino vissute quest'estate, dal finestrino dell'auto, quando si cammina per strada, che alzano, innalzano la temperatura di anche un grado, insomma, uno o due gradi, quindi ci si ritrova improvvisamente in una condizione corporea che non è in grado di, ecco, adattarsi, perché noi siamo, dico rettili, no dai, siamo... Ma Nicola un po' sì, un po' rettile, sangue freddo. Poi mi tartassate su tutti i temi, anche quelli scientifici che non so, ma, insomma, il corpo ha bisogno di abituarsi, no, alle variazioni, invece in quel caso ti arriva una pacca che se una persona... Sì, ha dato vita anche a un fenomeno... Svenimenti anche più semplicemente. No, ma a un fenomeno mentale, cioè i negazionisti del clima, abbiamo trovato anche questi, cioè dobbiamo negare qualsiasi cosa. L'acqua c'è, i canali sono pieni, il po' è pieno, zeppo di acqua, non ci sono delle isole che emergono, non c'è emergenza idrica e non c'è soprattutto il cambiamento climatico in genere. Insomma, una delle questioni che sono emerse a fine dell'incontro, grazie a un intervento sempre di Luca, di Resistenza Terra, è stato il fatto che l'impressione che non ci sia questo reale senso di urgenza e quindi è una cosa condivisa, anche guardando le amministrazioni, hai avuto anche te questo parere che in realtà l'urgenza sul clima non abbiano il pepe al culo, scusatemi. Si capisce bene, molto tecnico. Sì, erano discorsi, le risposte che davano erano di, come dire, come se ce le saremmo aspettate 10, 20, 30 anni fa. Adesso è un po' tardi, è un po' tardi per pensare solo al pedibus, è un po' tardi per pensare solo alle auto elettriche. Cioè, è ovvio che è tutta una serie di azioni virtuose, perché guai mai parlare male delle azioni belle e concrete che si vengono fatte sul territorio, ma che manca una visione di insieme e anche e soprattutto, come dire, l'urgenza tecnica. Cioè, dicevamo nella registrazione di prima, che i comuni hanno una marea di urgenze, gli uffici hanno una marea di urgenze e anche comuni che hanno molto a cuore l'ambiente, come il comune di Cento, fa fatica a star dietro a delle emergenze, alle emergenze di questo tipo, o anche semplicemente a delle azioni concrete, prioritarie, che sono quelle ambientali. Prioritarie perché sono trasversali a tutto il resto. È ovvio che se lo chiedete a me saranno prioritarie, ma, se ci pensate, sono, come dire, vanno a toccare anche la parte appunto di salute pubblica, di nuova urbanistica, di parchi pubblici, di costruzione di nuove case. Quindi, in verità, è un tema che è, insomma, molto trasversale, prioritario, anche proprio nella salute dei cittadini, nelle tasche dei cittadini, che vengono toccati anche dal punto di vista di queste grosse grandinate, perché io sono di Pieve, ma avevo la macchina Casumaro quel giorno, con me, mia mamma, mio babbo, mio fratello, mia zia Donatella, e mio nonno, insomma, tutti l'auto distrutta, perché eravamo tutti in contemporanea, la famiglia intera a Casumaro, e noi solo l'auto, perché poi c'è chi ha avuto la casa, il 110, il campo, l'attività economica danneggiata, quindi... Ma hai dato da pensare che le auto distrutte, dalla grandine, sia proprio il pianeta che dice, così non inquinate? No. Eh, fosse così semplice, sarebbe interessante. Un karma, un karma ambientale. Ultimamente il pianeta ci sta dicendo tante cose, che credo che, insomma, noi siamo troppo fragili e piccoli per non poterle ascoltare, perché potrebbe essere un guaio. Vogliamo sempre opporci, no? Alla natura, al pianeta, in verità dobbiamo assecondarlo, ascoltarlo, perché... Ah, e da cittadini attenti all'ambiente, quali siete voi, di resistenza a terra, quali, per fortuna, ce ne sono sempre di più, soprattutto nelle nuove generazioni, che cosa avreste voluto sentire dagli amministratori? Allora, eh, noi vorremmo che le amministrazioni si appoggiassero alle associazioni ambientali per fare delle scelte anche di coraggio, perché le associazioni permettono di portarsi con sé a una fetta di cittadini perché fanno da tramite, non sono, siamo noi l'amministrazione, quindi noi non c'entra niente con la politica, se c'è da bacchettare chi ha fatto male lo diciamo, se c'è da dire che una volta ogni tanto si fa una cosa fatta bene la sponsorizziamo e la appoggiamo e quindi le persone sanno chi siamo, intanto, perché noi operiamo su... operiamo localmente per delle azioni che saranno poi d'impatto globale ma insomma in luoghi piccoli ecco ci conoscete, ci conoscono in tanti e quindi sanno che ci siamo sempre stati, sanno chi siamo, sanno cosa abbiamo fatto, quindi è più concreto essere... Sembra la Digos, sanno cosa abbiamo fatto. No, appunto da pievese, chi sei, chi è tuo padre, chi è tuo zio, chi è tuo nonno, cosa faceva di lavoro, eccetera, sanno tutto, ovvio, la Digos non ha niente da insegnare ai pievesi. Su obiettivo 100 non sei pievese. Hai ragione. Sei pivina. Pivina, meglio. E quindi insomma con delle azioni locali e concrete si può portare con sé a una fetta di cittadinanza perché va educata, un tema di cui parlavamo anche poco fa, perché neanche noi siamo nati imparati, nessuno è nato imparato, è sempre un percorso verso un miglioramento di una strada che dobbiamo fare tutti insieme, un pezzettino alla volta perché non sia troppo faticoso come la storia della rana bollita. No, aspetta, questa allora la introduciamo bene questa cosa perché ci sarei arrivato però è bellissima. Allora, ho fatto nella prima versione di questa registrazione una domanda, dico, perché i cittadini non hanno questa, insomma, non si ha questa impressione che sia nei primi pensieri della giornata il clima nonostante poi dopo tutti a piangere quando onde di calore grandinate e quant'altro quindi mi sono chiesto come mai anche di fronte all'evidenza oltre negazionisti che quelli non li consideriamo ma le persone comuni non si svegliano di fronte a questa situazione qua e la Linda ha tirato fuori una metafora bellissima che è quella della rana bollita ce la vuoi spiegare per favore? Con molto piacere qui non si danneggiano animali però è solo una metafora la rana bollita è la rana che dentro il paiolo e si accende il gas sotto il fuoco sotto e l'acqua prima a temperatura ambiente poi si scalda gradualmente quindi la rana non si sta accorgendo di stare bollendo è la sensazione che hanno le persone che vivono in pianura padana cioè è la sensazione che gli ambientalisti hanno sulle persone e anche noi stessi che vivono in pianura padana cioè ci abituiamo al peggio a non avere natura avere un'aria perennemente inquinata avere un clima orribile e inqualificabile da tanti punti di vista sia del caldo che degli eventi climatici estremi che una volta appunto vedevamo lontani da noi e alla mancanza di aree verdi di spazi a una vita anche molto produttiva frenetica che ce lo raccontiamo e che sembra una cosa sempre positiva ma che poi in realtà va a impattare moltissimo sia sulla salute mentale fisica sia sull'ambiente e invece in pianura padana noi dobbiamo lavorare dobbiamo andare in macchina dobbiamo produrre non si può fare insomma un'azione come dire di 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 frenare un pochino smettere di crescere sempre perché si fa altrove dei modelli di sviluppo diversi dove si possono fare dei giochetti come in montagna in appennino in aree più rurali mentre in pianura padana un luogo di battaglia in sostanza i campi devono produrre tot le aziende devono essere di certe dimensioni bisogna fare i poli logistici le autostrade e nessuno si oppone perché noi stessi siamo convinti che qua non ci sia niente non c'è natura e quindi lo andiamo a cercare altrove in collina in montagna dove invece la percezione delle poche persone rimaste purtroppo è molto diversa cioè tutelano di più hanno più legame con il loro territorio la sensazione è quella che la politica ha potuto per tanto tempo fare quello che voleva le amministrazioni insomma anche le aziende davano spazio alle aziende di fare ciò che volevano in altri posti del mondo meno cioè c'è chi si può in altri peggio anche nel senso che in altri peggio però peggio della pianura padana non c'è tanto in Europa non c'è tanto diciamocelo perché c'è una cementifica un consumo di suolo smodato non sono venuta con i dati ma continuiamo a consumare suolo nonostante delle direttive europee delle leggi quindi sembra che venga prima di tutto il resto e il consumo di suolo porta alle inondazioni e uno dice ma come mai perché non è che fa però un suolo impermeabilizzato fa in modo che l'acqua non venga assorbita cosa che fa un prato lasciato incolto o un bosco su questa cosa qui faccio un assist a George scusa George se tu hai sempre sostenuto che la politica ambientale è una politica di sinistra l'Emilia Romagna è una regione tradizionalmente storicamente di sinistra c'è qualcosa che non torna sì ho fatto una domanda sempre prima e la rifaccio adesso perché quando si parla di ambiente quando persone come me o Nicola cercano di parlare di ambiente ecco sono diventati di sinistra allora a me siccome sta cosa qua rompe anche un po' le scatole dico ma perché sei diventato di sinistra o perché sei diventato ambientalista cosa che ti rompe le scatole semplicemente perché faccio delle domande ragiono e ragionare allora significa aver cambiato casacca ma le persone piacciono molto le etichette sì esatto ma infatti me ne frega fino a un certo punto però indipendentemente da questo mi sono chiesto arrivati al 2023 arrivati a grandinate cambiamento climatico granchio blu che non c'era prima adesso improvvisamente ce lo troviamo sul piatto accidenti per non dire di peggio il clima è una tematica solo di sinistra può essere solo di sinistra ovviamente se lo chiedete a me no è una tematica trasversale che deve impattare su più partiti su tutti i partiti secondo me è un errore pensare che l'ambientalismo sia di sinistra perché la nostra regione che è tradizionalmente di sinistra ha fatto le peggio cose dal punto di vista ambientale costruzione di infrastrutture che non dovevano essere fatte oppure non in quel modo azioni di greenwashing per lavarsi la coscienza cioè spieghiamolo perché l'obiettivo accento ritorna questa cosa di termini che non conosciamo le azioni per fingersi ambientalisti diciamo quando in realtà il problema è un altro faccio l'esempio del mettiamo radici per il futuro noi abbiamo piantato tanti alberi di mettiamo radici per il futuro che sono alberelli gratuiti dati dalla regione ma il problema è che non c'è lo spazio in cui metterli non ci sono dei terreni pubblici quindi cosa dai gli alberi se poi non prevedi di fare delle rinaturalizzazioni vere e in più è sempre sul gruppone delle persone cioè sei tu che non pianti l'albero non sono io regione che che non te l'ho dato esatto ma ti faccio una ti faccio una magari vivi in un appartamento in centro a Bologna e dici ma è sto albero dove me lo pianto ti faccio una domanda tecnica proprio spot di fronte a casa ho una ciclabile con un pezzo di parco del comune e io dico sempre cavoli ci starebbe bene un bel albero lì davanti oltretutto che mi farebbe anche ombra alla macchina perché sono sempre proprio ambientalista egoista alla macchina non alla bicicletta alla macchina però l'albero mi piacerebbe piantarlo lì in quel caso lì potrei chiedere al comune il comune è obbligato a dirmi di sì perché siamo in una fase ambientale se lo curo io no il comune non è obbligato a dirti di sì potresti guardare il verde insomma la gestione del verde di Bondeno però tendenzialmente se te lo pianti tu se lo fai di nascosto non se ne accorge nessuno questo lo censuriamo dopo e se lo chiedi invece se ne accorgono e quindi dopo diventa l'albero il problema perché le radici sollevano quale tipo di albero probabilmente ti diranno di no probabilmente però non lo so mi fate sempre domande molto tecniche quindi non lo so noi per piantare sarà per quello che non è venuto Bondeno al nostro incontro perché gli avrei chiesto posso piantare l'albero lì davanti a cento pieve a castello d'argine nelle zone dove abbiamo piantato abbiamo sempre fatto degli accordi con il comune ma noi siamo un'associazione che lavorava insomma su questo tema va bene venite a casa mia che vi faccio vedere dove piantare l'albero che mi serve tornando invece al tema della politica che insomma volevo concludere che è ancora sentito come un tema di sinistra secondo me perché il tema ambientale ha anche degli aspetti di tipo sociali e quindi ancora non riesce a toccare le tematiche puramente della insomma della destra tradizionale però è ovvio che insomma a mio avviso ormai è diventato un tema trasversale se non che la destra è rimasta a volte fissa su alcuni temi tipo la produzione un certo tipo di benessere di ricchezza che invece insomma però su questo e sempre prima ho fatto un appunto dico ci sono aziende quindi produttività e abbiamo citato Eurocel che è un'azienda molto amica di Obiettivo 100 che sta facendo un percorso verso il green crea imballaggi ha studiato tutta una linea compostabile ha creato i pannelli solari ha comprato auto elettriche quindi il messaggio anche a livello produttivo è arrivato da qualche parte anche se forse non è abbastanza no sicuramente si sta facendo un cambio di tendenza sicuramente è sempre più lento rispetto a quello che dovrebbe essere però moltissime aziende si sono attivate un po' perché lo devono fare perché diciamo ci sono delle leggi apposta contro le emissioni o per compensazione e un po' perché appunto questo sentimento è anche fa bene all'azienda diciamo fa bene all'immagine dell'azienda quindi è solo un'operazione di greenwashing sicuramente no ci sono delle aziende più sensibili di altre però dal punto di vista di marketing fa bene quindi se volete anche solo fare greenwashing a questo punto ben venga gettiamo la maschera questa è un'operazione di marketing di Obiettivo 100 questa è la nostra volontà di parlare di green senti ma visto che ci avviamo alla conclusione io ho sempre avuto l'impressione che la tematica ambiente ecologia stia facendo molto più presa sulle nuove generazioni anche rispetto alla nostra noi non siamo vecchi però apparteniamo comunque a una generazione che non è nata con l'ambiente col sangue verde tu come la vedi? sì noi siamo una generazione che seguiamo le orme di chi ha fatto abbastanza male prima di noi abbiamo avuto quel tipo di modello lì le persone più giovani e per giovani intendo dai 15 ma anche prima ai 25 gli zoomer gli zoomer hanno sono nati in questo problema prima ho detto gli brucia il culo torno a dirlo perché è un problema tanto urgente tanto tanto urgente quindi e quindi noi abbiamo fatto nascere resistenza giovani che è un posto per persone tra gli 8 e i 15 anni ecco fino a che non sono troppo vecchi per venire a parlare di questi temi far parte di un gruppo in realtà li cacciate via quando entrano in piena pubertà perché sono ingestibili esatto anche e che faremo il primo evento pubblico il 29 di settembre con una raccolta cicche durante accade a settembre il 29 settembre alle ore 17 vi aspettiamo perché è un'azione come sempre le nostre insomma concreta da un lato cioè togliamo cicche che inquinano tra parentesi ma sensibilizziamo cioè una quantità di cicche smisurata viene trovata in un'ora da poche persone da un piccolo gruppo di persone quindi si pesano si fanno le foto si fa un'azione per fare in modo per e poi dopo dove le buttate? nei fossi ovviamente ah ecco così ci siamo pensavo nelle fogne direttamente ripassano quelli di plastic free che raccolgono le cicche che si autofinanziano hai capito si autoalimentano sono le stesse cicche che girano da anni in realtà sono sostenibili allora rifaccio la domanda che ho fatto sempre prima sul fatto dell'educazione perché Nicola ha giustamente citato i giovani ma il problema non credo che sia l'inquinamento delle nuove generazioni ma l'inquinamento degli adulti come si può o si può educare delle teste un po' dure come la mia senza che insomma si usa il ricatto dei figli no si può sempre si può sempre educare dei figli si perché come ho citato la mia compagna per farmi sentire in colpa sul discorso ambientale quando faccio qualcosa di ecologicamente sbagliato mi dice pensa al pianeta che sta lasciando tua figlia e facendo leva su questo senso di colpa insomma è riuscita a scatenarmi qualcosa ma siccome abbiamo dimostrato che cento dei figli non se ne fanno più quindi questo senso di colpa non si può giocare potrebbe diventare inefficiente esatto come si può creare un senso di colpa nelle generazioni più dovute tanto parlare di senso di colpa forse dal punto di vista dei profili psicologici non è il massimo cioè noi dobbiamo vivere una vita responsabile perché siamo in tanti in realtà sul pianeta anche se a cento non si fanno più figli e dobbiamo farlo tutti perché altrimenti non è non è bello quello che succederà e dobbiamo avere tutti rispetto per il pianeta e farlo tutti insieme anche quelle popolazioni che stanno crescendo adesso e noi anche nel loro rispetto dobbiamo tirare il freno a mano e perché adesso tocca a loro inquinare adesso non tocca a loro inquinare perché il nostro modello di sviluppo abbiamo visto tutti che non era sostenibile quindi abbiamo già dato il cattivo esempio e spero che le strade alternative si possano trovare stando meglio tutti e per fare insomma per rendere un pianeta migliore bisogna scavare l'educazione va fatta la didattica ambientale le conferenze parliamo sempre di adulti per noi sì per gli adulti è meglio cominciare da bambini però basta fare il laboratorio di riciclo del tappo della bottiglia a scuola bisogna pensare a temi più pregnanti anche più interessanti più divertenti ci vuole una preparazione nei docenti a partire dalle maestre maestri le scuole insomma materne perché in realtà se dicevi primaria mi arrabbiavo primaria se ce l'avessi con me perché si fa troppo poco ancora a scuola nonostante le nuove generazioni siano più sensibili negli adulti è diverso ancora perché hanno vissuto un mondo dove potevano fare quello che gli pareva adesso magicamente insomma qualcosa è cambiato e ancora qualcuno nega però non bisogna mai mollare mai mai mollare bisogna essere la goccia che scava nella roccia perché anche noi stessi impariamo in continuazione delle cose che prima facevamo che poi insomma andiamo a un incontro a una conferenza sentiamo qualcuno su un altro tema che non avevamo mai considerato e si apre un mondo e si può fare meglio senza avere appunto questo senso di colpa perché da soli non cambiamo il mondo ma se tutti insieme un pezzettino alla volta facciamo qualcosa allora la sensibilità e l'esempio che diamo alle altre persone quello sì è molto 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 importante ma ti rendi conto di che richiesta alta che hai appena fatto responsabilità condivisione dinamica sociale la pazza nel mondo no? no nel senso che lui capito ti ha proposto una ricetta più semplice la paura il senso di colpa quelle cose sulle quali si costruiscono le religioni le dittature quelle cose lì però che funziona un certo punto di vista se una dittatura ti dicesse sono tutte fallite non funzionano però purtroppo ha detto una cosa giusta è una situazione libertaria cioè lo facciamo perché è giusto così non perché ci sono altre maniere per fregare per fare i furbi questa è l'unica cosa sulla quale non possiamo fregare nessuno se non noi stessi quindi facciamolo perché è forse il caso ci tocca di diventare delle brave persone ci proviamo ma quindi siamo ancora in tempo? certo che siamo in tempo non si può mai mollare non si deve mai mollare non si può mai dire il contrario è vero che il pessimismo nell'aria è tanto perché sono insomma momenti complicati soprattutto alla luce di quello che è successo anche insomma poco lontano da noi con le spedizioni che abbiamo fatto anche partire da qua per aiutare le persone in Romagna perché a vedere a toccare con mano quello che è successo a causa del cambiamento climatico e lì è proprio il parco giochi del cambiamento climatico e montagne cumuli anche di cose che sono state buttate via infrastrutture da ricostruire tra l'altro il sindaco a corsi ha giustamente fatto notare che noi ci è andato tanto così che il reno mollasse l'argine e fossimo delle alluvionate anche noi a cento quindi però insomma in conclusione la speranza è l'ultima a morire qual è il colore della speranza? il verde e vedi più boschi vedi vedi pensavo che quello è rosso visto che è una tematica di sinistra no verde speranza dai vedi c'era già la risposta infatti c'è la maglia verde dopo ti danno anche del leghista così che tu sei per maloso te la prendi anche per quello ma si va bene insomma tanto di qua di là va bene ora che siate di qua di là che abbiate cambiato casacca che siate di destra di sinistra insomma l'ambiente è qualcosa che vi tocca da vicino perché se non vi ha toccato le caviglie con l'acqua se non vi ha toccato la testa con la grandine vi ha toccato col caldo perlomeno e quello ci ha preso proprio tutti quanti e quindi insomma cerchiamo di fare il nostro perché è reversibile la situazione siamo proprio agli sgoccioli però siamo ancora in tempo noi abbiamo cercato di fare la nostra parte da questa stagione la faremo ancora ecco perché non è che ci fermiamo qua però insomma diciamo vi abbiamo dato il primo cassotto nello stomaco tu rimani attaccato a questa cosa della paura del terrore tu vai bene in una dittatura non hai cambiato casacca 100 vuole la liberazione da Savignac io ringrazio Linda ringrazio Gipsoteca ringrazio Resistenza Terra ringrazio l'amministrazione vi ho ringraziato tutti a domenica prossima ciao ciao